Quattro concerti dedicati al barocco in quattro delle chiese monumentali più belle di Napoli. Sono gli appuntamenti di musica organizzati dalla Scabec nei giorni dell'Avvento nell'ambito del progetto Musica nei luoghi sacri. Quattro concerti ad ingresso gratuito con la possibilità di effettuare anche una visita guidata con storici dell'arte ed esperti. Un incontro di cultura, musica, arte e tradizione per comprendere la nostra storia attraverso i luoghi e attraverso le melodie ispirate dal barocco e dalla tradizione natalizia. Francesca Maciocia, direttore generale di Scabec. Siamo molto contenti perché questa è una iniziativa che ha sempre molto successo e dal punto di vista del pubblico registriamo sempre il tutto esaurito ma anche dal punto di vista della partecipazione delle ensemble e in genere quando facciamo queste manifestazioni di interesse abbiamo sempre tanta partecipazione, anzi ci piacerebbe insomma anche incrementare. Ad aprire la rassegna domenica 11 settembre è stata l'ensemble barocco di Napoli che si è esibita nella chiesa di Santa Maria Regina Celi nel centro storico della città. Tommaso Russi, flautista, ensemble di Napoli. Questa sera il luogo è straordinario, la chiesa di Santa Maria di Regina Celi è uno scrigno del barocco napoletano e quindi è adattissima proprio per questo programma che realizzeremo e che ha come motivo conduttore il rapporto tra la musica sacra e la musica strumentale nella Napoli del Settecento. Il progetto Musica nei luoghi sacri comprende anche canta, suona e cammina, la parte formativa che prevede un'annualità di studio musicale rivolta a ragazzi tra gli 8 e i 15 anni provenienti da alcune parrocchie della Diocesi di Napoli. Il progetto è sfidanziato con fondi del piano operativo complementare per i beni e le attività culturali ed è realizzato grazie alla collaborazione tra la Regione Campania e l'Arcidiocesi di Napoli. Don Adolfo Russo, vicario episcopale della Diocesi di Napoli. For me questo è il terzo anno, scegliamo delle chiese che si prestano per l'architettura, la storia dell'arte che vi era chiusa e magari anche, come avremo modo di dire, del ruolo che le chiese stesse, ognuna di queste ha avuto nella storia della città, nella storia del popolo napoletano. I prossimi appuntamenti sono per domenica 18 nella scenografica chiesa di San Giovanni a Carbonara, martedì 20 nella chiesa di Santa Caterina a Formiello e venerdì 23 dicembre al complesso monumentale di Sant'Eligio Maggiore.